Il livello attuale o recente, il livello medio, le punte massime dello spread tra i buoni del tesoro pluriannale a 10 anni in particolare e i bund tedeschi non è assolutamente spiegabile sulla base dei dati fondamentali dell'economia. Il capo dello Stato è a Bolzano per la cerimonia dei 40 anni di autonomia della provincia, e lì coglie l'occasione per difendere la nostra economia. Inspiegabile il livello dello spread come è inspiegabile il giudizio sulle nostre banche che sono più solide di quelle dei paesi virtuosi. Ma nel suo intervento il Presidente della Repubblica parla anche dei meriti dell'Unione Europea. Il processo di integrazione e la costruzione di un'Europa unita sta attraversando una fase complessa, dice Napolitano, ma l'essenziale per superare le difficoltà è che le forze politiche e sociali, le opinioni pubbliche e i cittadini dei nostri paesi non smarriscano mai la consapevolezza delle straordinarie conquiste di civiltà che associandosi abbiamo potuto conseguire. Perciò il capo dello Stato auspica che queste conquiste diano forza a un nostro comune convinto e coerente impegno per far avanzare la causa dell'integrazione e dell'unità europea. Tra le straordinarie conquiste conseguite, Napolitano elenca in primo luogo la pace nel cuore dell'Europa, grazie alla riconciliazione franco-tedesca e via via il superamento di altri contenziosi del passato tra stati, popolazioni, maggioranza e minoranza etnico-linguistica. In fine da Merano il Presidente della Repubblica promette non ci sarà mai alcuno svuotamento dell'autonomia dell'Alto Adige.